Oggi coniglio arrosto al forno con i sapori mediterranei. Vediamo uno dei modi più semplici per cucinare il coniglio. Al forno, arrosto. Olio extravergine d'oliva, il coniglio, aglio, salvia e rosmarino, vino bianco, sale e pepe. Il coniglio va marinato un'ora in frigo, quindi iniziamo a preparare la marinatura. Allora, togliamo l'anima all'aglio e prepariamo gli aghi di rosmarino e le foglie di salvia. Fanno un profumo pazzesco. E tritiamo. Che profumo! Mettiamo il trito in una ciotola. Aggiungiamo l'olio. E anche il vino bianco. Mettiamo anche un po' di pepe. E il sale. E un'ultima mescolata. Adesso abbiamo bisogno di una pirofila da forno. Adagiamo i pezzi di coniglio. E copriamo con la nostra marinata. Adesso copriamo con pellicola trasparente o con un coperchio e lasciamo marinare il frigo un'ora. Ecco qua. Riprendiamo il nostro coniglio dopo la marinatura. Sto preriscaldando il forno a 180 gradi ventilato. Per gli arrosti la funzione ventilata è ideale perché riesce a far formare una bellissima costecina intorno a tutti i pezzi di carne. Lasciamo cuocere circa 40 minuti. Il coniglio va mescolato di tanto in tanto. Il nostro coniglio è cotto. Guardate che crosticina dorata. Chiaramente i tempi di cottura dipendono anche dalla grandezza del coniglio. Quindi potete allungarli. Potete negli ultimi minuti mettere anche un po' di funzione grill per fare una bella crosticina dorata. Alla fine va aggiustato di sale e pepe servito caldo con un buon contorno. Ad esempio una bella insalata di stagione o anche un buon purè o delle patate al forno. Guardate. E servite con il suo sughino.